E' giusto secondo te morire per Allah? Certo. E' giusto morire per Allah? Sì. E' giusto. E' giusto morire per Allah? Certo. Alla jihad va bene? Jihad va bene, però terrorismo no. Poi incontriamo questo ragazzo di 13 anni. E' giusto morire per Allah? Sì. Tu hai visto le persone che si fanno esplodere? Sì. Cosa pensi? Non è giusto che prendano in giro i musulmani. Loro muoiono per Allah? Sì. Sono degli eroi? Sì. Sono degli eroi? Sì. Sono dei martiri? Sì. Però così ammazzano altre persone. E per Allah va bene. E per Allah va bene.